Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Marco e oggi faremo la rebuilding con il Milano con padre Piole allora vediamo la formazione aggiustiamo vediamo che c'è allora vediamo l'ambrosa vediamo che vendere e poi rompiamo Balloturè non lo lascio vuol caldare lo richiamo e lo vendo gabbia pure burgers se se ne vuole andare se ne va crescianine se se ne vuole andare se ne vuole andare vediamo aug lo vendo crunch crunch lo vendo castiglico lo vendo e capanne pur lo vendo allora vediamo se ci arriva qualche offerta intanto facciamo le partite del precampionato offerta di testamento per clunic e poi per caldare accettiamo e accettiamo allora però io devo fare una cosa che faccio in tutti i video no ho sbagliato ovvero ovvero una partita allenamento riposo e solo riposo se no poi per tutto luglio e agosto ogni giorno allenamento 8 anni durano questi due mesi iniziamo la partita del precampionato vediamo vinciamo grazie a liviera allora ragazzi ora dobbiamo fare calcio marcato ora dobbiamo fare calcio marcato vediamo chi ci serve ne hanno venduto un po' di gentaia allora intanto qua modifichiamo ok allora vediamo cosa ci può servire allora ci servirebbe un cc e un terzino un cc e un terzino non ci servirebbe allora quanti soldi abbia abbiamo 60 milioni pochini allora io vorrei prendere Thomas Partey quello dell'athletico c'è dell'asso costa costa non lo so è come terzino posso prendere come terzino posso prendere posso prendere allora forse posso prendere un terzino un terzino giovane allora ho trovato terzini vediamo se ce la faccio allora Dunfriss che costa un sacco è Gertrude però non lo so lui sto seguendo intanto prendiamo Partey vediamo vediamo ci possiamo offrire vediamo che ci possiamo offrire Auga più 15 Auga più 15 non vogliono 43 milioni non vogliono che vogliono 43 milioni trattiamo grande ballo dure accettiamo mente è il stipendio 115 come prendevo accettato abbiamo 26 milioni non ce la facciamo mai comprare Dunfriss però vabbè vediamo se riesco a vendere qualcun'altro facciamo soldi però non arrivano offerte di nessuno ma dopo andiamo a prezzare invece non li do si faccio lavoro io mi sa che mi compro Gertrude non lo so io vado contatto Fennord è offerto 16 no ho il joystick buggato comunque è posseduto il mio joystick si ma ma va qui che ho il joystick è posseduto non so se su youtube si può dire questa parola non lo so io non lo so che faccia nelle airing non lo so ma che ne so quando trattiamo lo Gertrude sporadico va bene va bene va bene va bene va bene va bene lo teniamo in panchina lo teniamo in panchina lo teniamo quanto va di overall 76 che è bello schifo però acquisto di ma bo va bo che schifo acquisto schifoso manco metto un banca che c'è il davidino calabria non posso fare niente però benna serra benna serra è buono io potrei mettere Gertrude tutta l'ara però no simuliamo perché offerte non arrivano più simuliamo fino a a maggio GOOOOOOL ciao ragazzi allora la stagione è finita si vede la stagione è finita vediamo allora col Milan siamo arrivati in seconde primo l'Inter peccato peccato poi potevamo vincere in Coppa Italia siamo siamo uscite siamo uscite aiutare in Champions siamo uscite pure aiutare ok quindi non abbiamo vinto niente vediamo quanto sono cresciuti cacciatori io vi ho detto che c'è il controller posseduto basta c'è il controller posseduto allora Rebic 18 gol il capogandone è nostro Gertrude ha fatto più uno ma non vende il resto parte non è cresciuto ha fatto cosa Gertrude ha fatto dice l'articolo beh non è male non è male ragazzi il video finisce qua iscrivetevi e mettete mi piace perché a un tot di mi piace esce il video perché ogni giorno esce un video se mettete a questo video zero like non lo vede nessuno non pubblico più niente non succede anche voi siete bravi ciao iscrivetevi per favore mi raccomando